Panicale presenta una connotazione di borgo medievale perfettamente conservato, circondato da una cinta muraria intervallata da diverse torri. Tra i monumenti di maggior rilevanza artistica troviamo la collegiata di San Michele Arcangelo, dedicata al Santo Patrono del Borgo, esempio di barocco, la chiesa di San Sebastiano, che custodisce due splendidi affreschi, il Martirio di San Sebastiano del Perugino e la Madonna con Angeli Musicanti, attribuito a Raffaello, il Trecentesco Palazzo del Podestà, sede dell'Archidio Storico del Comune, punto più alto della città, e il Teatro Cesare Caporali, uno dei più piccoli dell'Umbria. Poco distante sorge la Seicentesca Chiesa della Madonna della Sbarra, nel cui romitorio è ospitato il Museo dei Paramenti e Oggetti Sacri, che conserva manufatti provenienti dalle diverse chiese di Panicale. Merita una tappa anche il Museo del Tulle, che ha sede nell'ex chiesa di Sant'Agostino e in cui sono esposte pregiate lavorazioni con ricamo su Tulle, una produzione tipica dell'artigianato locale.